Quali saranno i TCG più attesi del 2023? Cosa ci aspetterà una volta che inizieremo ad addentrarci nelle loro dinamiche? E quando li vedremo arrivare sui tavoli da gioco dei nostri centri ludici di fiducia? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Il mondo dei TCG non dorme mai e l'anno corrente vedrà la nascita di titoli davvero interessanti che ho deciso di trattare attraverso una mia personale top 5. Vi consiglio di tenere d'occhio questi giochi di carte collezionabili che potranno dire la loro non appena disponibili sul mercato. Un paio in particolare che vedremo nei piani alti della classifica sono certo saranno molto interessanti e si imporranno sul mercato cogliendo una buona fetta di appassionati. E quindi seguendo i vari progetti ed il loro sviluppo tra le decine di idee trovate nell'Etere ho preso in considerazione solo quei GCC che hanno sia soddisfatto in termini di Kickstarter dove si sono raggiunte cifre davvero interessanti atte a realizzare l'execution che ai fini delle meccaniche di gioco dato che essendo già disponibili i regolamenti per la maggior parte di loro ho avuto modo di testarli. Sia chiaro non è stato semplice lasciare fuori da questa top titoli come Black Breed, Black Alley Images, il pixelato Mashmouth, Mythic ed Otherverse ma non mi hanno convinto alla fine come i vari giochi di carte che tratteremo fra poco. E a proposito di ciò per ogni trading card game già presente in classifica, se possibile, analizzeremo velocemente quali panni vestirete, quello che vi servirà per giocare, accennerò le varie fasi di un turno ed infine quale sarà l'obiettivo dell'incontro. Per maggiori informazioni a riguardo vi lascerò i link ad ogni pagina web in descrizione dove potrete da voi esplorare più nel dettaglio i regolamenti di gioco. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Per voi è solamente un click del mouse o un tap sullo schermo dello smartphone. Per noi invece è molto importante così riusciremo a creare e apportare contenuti sempre più interessanti e ricercati. Grazie infinite in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo la top 5 dei migliori titoli in arrivo in questo 2023. Andiamo a dargli un'occhiata. La quinta posizione vedrà Grand Archive aprire le danze. In questo TCG controllerete un campione con statistiche proprie che evolverà durante il corso dell'intero match. Per preparare l'incontro dovrete utilizzare due mazzi. Il primo chiamato Main per l'appunto con un numero di carte che partirà da un minimo di 60 senza limiti di grandezza ed il secondo che prenderà il nome di Material Deck composto da un numero variabile che andrà da 0 ad un massimo di 12 carte. Il turno vedrà 7 step da seguire. Risveglio, materializzazione, ricordi, pescata, principale, combattimento e fine turno. Dei quali i primi 3 avverranno per preparare il campo riutilizzando risorse e impiegando elementi utili in mano per svolgere al meglio la vostra strategia di gioco. L'obiettivo finale del match sarà quello di annientare il campione avversario azzerandogli i punti vita attraverso il supporto di varie tipologie di carte che vedranno alleati, attacchi, armi da equipaggiare ed azioni aiutarvi nell'intento di portarvi a casa l'incontro. Si potrà iniziare a giocare a Grand Archive nei vari centri ludici a partire dal primo quadrimestre del 2023. 3. Quarto posto per Cryptic. In questo gioco di carte collezionabili possiederete dei cittadini che vi torneranno utili per riuscire a sconfiggere l'avversario. Tutto ciò di cui avrete bisogno sarà il vostro deck, composto da un numero variabile che partirà da un minimo di 40 ad un massimo di 60 carte con l'ausilio di una side che non potrà avere più di 15 elementi al suo interno. Le varie fasi di un turno vedranno la presenza di 6 step, disengage per preparare tutto l'occorrente presente sul terreno ad un nuovo turno di gioco, pescata, prima fase principale, combattimento, seconda fase principale, fine del turno. L'obiettivo del gioco sarà quello di distruggere le 6 carte posizionate sul campo di battaglia ad inizio incontro che prenderanno il nome di Eleven Years attraverso l'impiego bellico dei citizen che avrete nel vostro deck. Inoltre questo TCG avrà anche un grande supporto a livello di lore con fumetti e carte che vi illustreranno le vicende che sono accadute e di personaggi che popolano questo fantastico mondo. Si potrà iniziare a giocare a Cryptic nei vari centri ludici a partire anche qui dal primo quadrimestre del 2023. Gradino più basso del podio per Alpha Clash Il TCG a tema supereroi vi vedrà nelle vesti di contendenti, i quali possiederanno due abilità, un loro valore in termini vitali e tutto il necessario per minacciare a colpi di superpoteri le difese rivali. Per iniziare il match avrete bisogno unicamente di un mazzo composto da un numero di 50 carte, non una di più né una di meno, con l'ausilio di una side che vedrà anche in questo caso un numero pari o inferiore a 15 elementi. Le varie fasi di un turno si susseguiranno attraverso lo svolgimento di 4 macro step. Expansion che vedrà le sottofasi ready, draw e resource atte a ripristinare le carte presenti in campo, necessarie per affrontare un nuovo turno di gioco, la primary, dove si potranno impiegare carte dalla mano, innescare effetti e combattere, la fase clash dove si dichiarerà battaglia ai danni di chi vi giocherà contro e la fine turno dove si passerà la mano all'avversario. L'obiettivo del gioco sarà quello di annientare il contendente rivale azzerandogli la vita, attraverso l'utilizzo di carte clash, terreno, azioni, supporti, counter e l'ausilio di armi e trappole. Si potrà iniziare a giocare ad Alpha Clash nei vari centri ludici a partire da questa estate 2023. Secondo posto per Sorcery Contested Realm Ho iniziato ad interessarmi a questo TCG osservando le varie artwork che mi hanno riportato con la mente ai vecchi fasti di Magic the Gathering. Per dare inizio ad una partita vi serviranno due deck. Il primo, chiamato Atlas, comprenderà un numero massimo di 20 carte. Il secondo invece, chiamato Spellbook, possiederà un numero di 40 elementi. Durante un match i vari turni si susseguiranno attraverso tre step. Iniziale, utile a resettare tutte le risorse già presenti in campo da riutilizzare nel turno corrente. Principale, dove potrete svolgere ogni singola azione consentita dal regolamento e finale che vedrà terminare la vostra mano consentendo a chi vi giocherà contro di iniziare la sua. Qui l'obiettivo del gioco sarà quello di distruggere tutti gli avatar presenti sul terreno rivale garantendosi così il predominio assoluto sulla plancia di gioco. Si potrà iniziare a giocare a Sorcery nei vari centri ludici dalla metà di questo 2023. Ed infine, il primo posto vedrà l'Orcana, il titolo della Disney. Al momento non si sa molto del progetto promosso dalla Ravensburger marchiata a Topolino, almeno non per quanto riguarda regolamento ed occorrente per iniziare un match. Si conosce solo il ruolo che si andrà a ricoprire una volta iniziato a giocare, ovvero quello degli illuminatori che andranno ad evocare i personaggi iconici che ci hanno accompagnato durante l'arco della nostra infanzia e che ancora oggi fanno sognare persone di tutte le età. Altri elementi noti saranno i prodotti che recentemente sono stati annunciati dalla casa madre, mettendo in chiaro la presenza del primo box di espansione, tre starter deck, uno starter kit e ciliegina sulla torta un gift set con le carte jumbo di Ade e Mulan con conseguente data di rilascio. Infatti si potrà iniziare a giocare all'Orcana nei vari centri ludici a partire dal mese di agosto 2023, dapprima negli Stati Uniti, in Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, per poi dal primo settembre sempre di quest'anno essere disponibile per il resto del mondo. Insomma, di certo il TCG targato Disney sarà, a meno che non si presenti un titolo degno di nota a contrastarlo, il gioco di carte più atteso, non solo dagli appassionati di trading car games, ma anche dai fan del topo più famoso al mondo, famiglia allargata compresa. Personalmente ho già iniziato a fare la lista della spesa pensando proprio a questo titolo, dato che anche se sarà un fiasco totale, avrà comunque il suo valore per tutti quei collezionisti che fanno della merce targata Disney un pensiero fisso. E quindi, parere estrettamente personale, vi consiglio di seguire più da vicino gli sviluppi di Lorcana, da qui alla sua data di rilascio al pubblico. Se per One Piece c'è stato un assalto all'arma bianca, qui prevedo un vero e proprio Armageddon. Staremo a vedere. E così siamo arrivati alla fine di questa top, trattando diversi progetti che proporranno delle tematiche piuttosto diverse tra loro, partendo da universi immaginari popolati da supereroi, passando per paesaggi fantastici fino ad arrivare al mondo fiabbesco di Walt. Per saperne di più vi ho lasciato in descrizione, come già accennato ad inizio video, tutti i link alle pagine web dei vari TCG che ho trattato in questo contenuto. Inoltre volevo ringraziare Claudio Tatoli per aver posto la mia attenzione su dei giochi di carte collezionabili che altrimenti mai avrei scoperto, come Cryptic e Sorcery. E voi avete un TCG che state aspettando che non è stato trattato in questa top 5? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento, prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.